Due le occupazioni avvenute domenica scorsa a Firenze, due gli sgomberi scattati immediatamente. Dopo aver liberato ieri l'ex monastero delle Stimatine sulle colline di Careggi da una trentina di persone, tra cui 13 minori, oggi è stata la volta del Circolo del Romito, occupato da ragazzi che si definiscono vicini a realtà anticapitalistiche. Due occupazioni diverse, ma sgomberi immediati, questo è l'undicesimo del 2023, che seguono una precisa direttiva del Viminale. Il Circolo del Romito era chiuso da quest'estate, dopo che i gestori avevano spontaneamente riconsegnato le chiavi al Comune, che ne è proprietario. Stiamo valutando progetti, fa sapere Palazzo Vecchio, sul futuro della struttura. Nelle intenzioni degli occupanti, che avevano annunciato una presenza temporanea di una settimana, sarebbe invece dovuto tornare subito ad essere un polo culturale per il quartiere, tanto è vero che avevano previsto un programma di iniziative interrotte dallo sgombero. Quella di ieri, confermano alcuni residenti della zona, era stata piuttosto partecipata. All'arrivo delle forze dell'ordine questa mattina erano rimasti dentro in quattro. Due di loro si sono barricati sul tetto, mentre un piccolo gruppo si è fermato davanti al cordone di carabinieri. Le forze dell'ordine hanno anche piazzato una telecamera nel vicino terrazzino, puntata sul tetto. Si tratta degli stessi gruppi che hanno occupato l'edificio dell'area ex Lavazza di Viale Corsica, sgomberato nel marzo 2022, e in seguito l'immobile di proprietà della ASL di Via Ponte di Mezzo, liberato l'8 agosto scorso. Dopo varie assemblee, avevano deciso per l'azione al circolo di Via Sighele. Grazie a tutti.